Buongiorno mister! Buongiorno niente! Cosa c'è mister? Avete sentito la notizia no? Che è che... Questo è troppo! Questo è troppo! Lei non è più l'allenatore della Juventus quindi non è una cosa che le interessa Questo ancora tutto da vedere! Questo è ancora tutto da vedere! Perché la squadra... La squadra mi sta dimostrando Ah! Grande affetto! Grande affetto! Le scrivono! Sarri sta provando a rivoluzionare la squadra a cambiare le impostazioni di gioco calcio spettacolo Sarrismo Sarrismo è un paio di coglioni la squadra sta giocando ancora abbastanza male e questa è la grande dimostrazione d'affetto ai miei confronti La grande dimostrazione d'affetto ai miei confronti calcio spettacolo di Sarri Se vuoi lo spettacolo va al circo L'importante è vincere L'importante è vincere Questo l'ha sempre detto Anzi! Più giochi male più vinci E Matteo questo era molto utile se posso dirlo Matteo questo era molto utile Però però Queste cose che non si fanno Non si fanno Alle mie spalle quando non ci sono vado a vedere De Sciglio Quando vado a papà i topi ballano Quando vado a padrone i gatti i topi ballano Io vado a vado a vedere De Sciglio E questo è poco con il resto A questo punto è quasi fatta Andrà lì probabilmente Mi tocca andare a allenare il PC Fu da me Andrà lì Anzi cosa faccio Lo chiamo subito Gli chiamo subito Per provare Ad allenare il PC Chi chi chiama? Chi chi chiama? Chi chiama? Il Presidente 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 Suona Il Presidente Guardé che sai Ficci Si oion Lo vado a dire Per Può vedete giocare Ma Peter pochino Presidente Ese voi vedete giocare Um��� Lei è virtuoso Vengo anche gratis Seкрly vengo anche gratis Ah Assolta Ok Mi fa sapere Grazie Speriamo Speriamo Mettete un altro Ma non vedete di ciclo